Vice Sindaco, quanto è vicino Anci Piemonte alla città di Torino, al capoluogo e come si può costruire un percorso insieme per crescere tutti quanti insieme? Ma appunto, la soluzione l'ha già detta lei nella domanda, bisogna costruire insieme le cose, quindi non è che Anci sia lontano vicino, il problema è che bisogna costruire insieme con i nostri rappresentanti, con gli amministratori locali. Però al tempo stesso noi dobbiamo stare in uno Stato forte e unitario, dove non ci siano processi di fuga di regioni o di enti locali. Io sono dell'idea che lo Stato debba essere tale, forte e debba naturalmente lasciare ai territori quelle autonomie sensibili e delicate che consentano ai rappresentanti locali di interpretare al meglio i bisogni e le esigenze dei cittadini. Quindi il sindacato dei comuni lotta a livello nazionale per ottenere risorse ma anche considerazione, ma nell'ambito di Anci una città grande come Torino può essere di supporto ai piccoli comuni? Si possono scambiare delle esperienze, delle buone pratiche? Assolutamente sì, ma è chiaro che le dinamiche delle città grandi sono un po' diverse, però al tempo stesso il problema di tutti i sindaci, di tutte le amministrazioni locali è che purtroppo in questi anni sono state lasciate un po' abbandonate dai poteri centrali. E questo è grave perché si è lasciato che le giuste aspirazioni dei cittadini trovassero sfogo nei sindaci ma poi gli sindaci non avevano gli strumenti per dare risposte.